Il fatto è che studiare, studio io, buon di motta, buon di mio, e giocare, 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 gioco io, buon di motta, buon di mio, e scusa sai ma l'atleta chi lo fa, a colazione, a scuola, a merenda, me lo merito, merito io. Buon di motta, buon di classico al cacao alla ciliesa, uno più buon di dell'altro.